L'interpretazione di Renault dell'alto di gamma del segmento C si chiama Australo. È veramente quello che, secondo la nostra visione, esprime il meglio della tecnologia alla portata di tutti nel segmento più importante in Italia e in Europa, nel mondo dell'altro. Perché parlo di alto di gamma di segmento C? Perché la visione dell'auto è una visione ibrida e high-tech. Ibrida. Abbiamo in questa vettura un nuovo motore ibrido full hybrid, completamente rinnovato, che nasce su una nuova piattaforma dell'Alleanza e che ci consente di dire di aver prodotto il motore ibrido più efficiente del mondo, perché emette solo 102 grammi di CO2 a chilometro e ha un consumo di 4,5 litri per 100 km. Quindi è veramente straordinario, ma è non solo questo. Il piacere di guida è anche garantito da una tecnologia con quattro ruote stersanti, un'evoluzione delle quattro ruote stersanti che già Renault ha introdotto sui propri modelli, ma ancora più innovativa, che permette di guidare l'auto in modo dinamico, in modo estremamente agile, ma con un grande controllo anche delle prestazioni in qualunque movimento, in qualunque situazione stradale. Quindi grande piacere di guida. Poi apriamo le portiere e entriamo dentro. E dentro cosa troviamo? Dentro troviamo un infotainment, quindi un sistema di connessione, di dialogo digitale con il guidatore, attraverso questo display di mille centimetri quadri. Quindi abbiamo davanti a noi veramente degli schermi che ci rendono facilissima la vita a bordo, facilissimo il controllo di ogni comando, con incorporato, come già era per Megane Tech 100% Electric, tutto il mondo Google, quindi Google Maps, Google Play, Google Assistant, senza l'utilizzo dell'iPhone. Quindi siamo veramente allo stato dell'arte della tecnologia, che viene però anche raccontato dalle forme esterne. È una vettura estremamente atletica, estremamente muscolare, con dei tagli che le danno una personalità straordinaria in questo segmento. E poi mi piace chiudere con due punti ancora. Il primo, introduciamo per la prima volta con l'Austral il nostro logo Esprit Alpine e quindi con delle caratterizzazioni di sportività, con dei dettagli di sportività legati ai tessuti, ai materiali, al colore, vedete che questo è un colore esclusivo della versione Esprit Alpine, che cominciano a raccontare una storia di sportività che si svilupperà, che si svilupperà nei prossimi mesi e nei prossimi anni attorno al nostro brand sportivo. Ed infine i servizi. Renault, io la definisco un brand che sorride, quindi è sempre stato un brand che si prende cura delle persone. Per noi prenderci cura delle persone significa regalare tempo di qualità, tempo per fare altro che non occuparsi dell'auto. E quindi mi piace citare, ad esempio, il servizio di manutenzione proattiva, che consente di individuare immediatamente qual è il livello di usura di una serie di componenti dell'auto, penso alle pasticche dei freni, penso agli pneumatici, penso alla batteria, in modo tale che il guidatore possa in anticipo sapere qual è il momento di portare l'auto in officina senza nessuna ansia, senza nessuna preoccupazione. Ecco, questo racconta quello che per noi è l'alto di gamma nel segmento C. Grazie. 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 Grazie.